E' bella raga e benvenuti in questo nuovo video di Fortnite Mettiamo subito pronto per le singole perché quest'oggi siamo su Fortnite Apriamo le notizie, il mezz'inverno è arrivato, arsenale, vabbè, le tue armi iniziano potenti E la loro rarità diminuisce più, eliminazioni ottieni Oh, siamo già entrati in partita, cioè sta già caricando Perfetto signori, perfetto veramente Allora, allora, allora Raga, la challenge che avevo in mente era quella di trovare le spade laser E cercare di utilizzarle il più possibile Raga, quindi c'è Speriamo almeno che funzioni Spero vivamente di sì Quanto ci mette per sto caricamento? Veramente, oh Raga, ogni volta è così Mi ci mette 30 anni per caricare Vabbè, questo gioco Boh, è un casa parte raga È un casa parte Comunque in teoria Eccoci qua, ok In lobby, alleluia Alleluia, siamo in lobby Eh, ok raga Comunque, eh Non so se avete visto prima o mai tornata la doppietta in game Quindi Magari se la troviamo comunque Vederla dopo Era season 5 che l'ho rimossa, giusto? Dopo la season 5 comunque Mi farebbe abbastanza piacere Allora, allora Hai bananita, hai bananita, hai bananita Ok, partiamo Guardate qui hanno pure messo Vabbè, le cose di Santa Claus Andiamo, andiamo, andiamo Ehm Molimolesti No, dai, fattoria Va bene, fattoria Ehm, ok Raga, intanto come vedete Mi chiamo anche qui su Fortnite Techai Matthew Perché, eh, ovviamente Faccio parte del team tech, raga Ehm, sono a livello 29 Perché, raga, non sto giocando molto Cioè, non gioco molto a Fortnite Però, comunque, voglio portarvi almeno Un video, sapete, c'è Un video, non fa mai male Tra l'altro, commentate qua sotto Scrivendomi se ne vorreste altri video su Fortnite Ok, in teoria, raga Sto arrivando perfetto, eh Sto arrivando In teoria, perfetto, dovrei essere Sì, perfetto per questa Dovrei essere perfetto per questa cosa qui, raga Sì Ehm, ok Allora Andiamo Andiamo, 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 andiamo Sì, raga, infatti Perfetto Ehm Ok Ok, raga Ok Ehm, oh, ok Livello abbiamo subito con il nuovo livello del passo Allora, allora Dimmi che c'è almeno Qualcosa Sono munizioni Pistola bianca Non la prendo neanche, guarda Oh, ancora munizioni, raga Non trovo nulla Cioè, il top sarebbe trovare la spada laser, vabbè Però, cioè Cioè, ovviamente Non posso Cioè, vorrei trovarla subito Però Non so se ci riesco, tra virgolette Lontorina dietro a questi qua ci dovrebbe essere Non ci viene dorata No way Già la cassa Già la cassa Guardate qua Guardate, strada laser Ok, ancora munizioni Sono indeciso su quale prendere La strada laser di Luke Kylo Ren O direi No, dai Prima di quella di Kylo Ren Anche perché ho il dorso decorativo dei Sith Uh, c'è l'ancolo scudo Ok, GG Allora, luciamo ancora un cecchino Ma vabbè che qualcosa Un cecchino Perfetto Un cecchino, raga Tra tutte le robe che potevano uscire Un cecchino Ok Non c'è un'arma Ah, uno ancora munizioni Vabbè Traietto, ok Almeno questo, raga Veramente, almeno questo Ok Ok, 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 ok Allora Faccio lo scudone, raga Anche se so che Prendo le bandi Anche se so che troverò subito gli scudini Dopo, raga Quindi Comunque Sto facendo male Rompiamo questo muro Andiamocene fuori, per favore Raga, ho sentito passi Aspettate che metto Per bloccare Comunque Andiamo di là Perché vedo un muro Raga Eccolo, eccolo, eccolo questo Guarda davvero Vabbè, era un botto Prima che Del game C'è pure l'assalto Pompa, sì, vabbè Lo prendo al posto delle vende Ecco, l'ho detto, raga L'ho detto Ho trovato Ho trovato gli scudini Raga, l'ho detto L'ho detto L'ho detto Non importa Qui a me non piace Il pompa del non normale Quindi prendo solo le munizioni Allora, allora, allora Ok, un vampa Non lo prendo Qui sopra Oh, mitraglietta verde Alleluia Ok, qui colpi pompa Niente cassa Perfetto Però avevo visto La cassa di munizione Qui, ecco Allora Non switcho un attimo Le armi di posto No, spada prima Ok A posto, a posto così A posto così, raga Allora, allora Non c'era altra gente No No, raga Non c'era altra gente Perché Non vedo gente Comunque è fighissimo Che può stare Raga C'è La rotolata Diciamo La rotolata C'è È veramente figo Ok, allora Fattoria Sì, sembra libera Quindi direi di andare In safe No, perché ci siamo già Però magari spostarci un attimo Ecco Allora 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 Magari Cerchiamo Che so Di evitare qualcosa Qui ancora munizioni Perché sto spaccando Vabbè Vabbè, raga Dettagli Sono dettagli Allora 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 No, raga Oh, non sto incontrando gente Raga Sono una kill Sono una kill C'è Veramente Raga Non trovo gente Oh C'è Boh È stranissimo Vabbè Allora Allora Raga No Non vedo nessuno Non vedo nessuno Quindi ok È a posto Raga È abbastanza A posto Raga Non vi ho detto Che farò Mi sembra Di non avervi detto Che farò Solo una partita Raga Quest'oggi Anche per questioni Comunque di tempo Raga Quindi farò Una sola partita Eh Hanno usato Hanno già lottato Però qui La porta è chiusa Aspettate un attimo Eh Ok Ok Il tattico Il tattico No Non ci credo È tornato Il lancio Palle di nieve What No way E ho trovato Gli scopini Vabbè Raga Cioè Sono dettagli Sono dettagli Sono dettagli Raga Adesso Eh Ehi 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 Quei due pupazzetti Non c'erano prima Ci sono anche altri Raga C'è un tizio Cioè Ci sono altre Anche altre Le spade lasri Vabbè C'è un tizio Quindi attenti Stiamo attenti Perché non voglio Non voglio morire Ok Quindi Eccolo Ok L'ho visto L'ho visto raga Andiamo Sto facendo il giro Quindi devo stare attento Oh no Oddio No perché è un cecchino No 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 Foro 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 No dai No raga No way No way Dai raga Sto qui era un abissimo No Se non prendevo il cecchino in mano Raga l'avevo chillato questo Vabbè Ho completato una sfida Raga però Vabbè Ritorniamo alla lobby Raga mi dispiace un casino Veramente Perché Poteva andare avanti Avevo pure la spada di Kylo Ren Perché non avevo fatto in tempo A prenderla Cavolo dai Non ci credo Veramente Non ci credo Vabbè Non importa raga Non importa Finisce il caricamento Speriamo Ok vabbè Rox Colore viola Va bene E Raga Spero che questo video vi sia capito E bella Grazie a tutti